Tempo di derby per la Scandone che stasera alle 20.30 al Palasport di Capriglia a Pellezzano affronta la Virtussare Chisalerno. La vigilia del match è stata agitata dal caso Corato con il club pugliese e la società Biancoverde che a colpi di comunicato hanno voluto far sentire le proprie ragioni. Il risultato del match rimane sospeso e per capire come andrà a finire bisognerà attendere la decisione della Procura Federale, così come attende coach Gianluca De Gennaro qualche buona notizia fuori dal campo sul pagamento dei lodi e l'eventuale sblocco del mercato. I biancoverdi però provano a concentrarsi sul parquet dove si preannuncia una sfida complicata. Salerno è la seconda forza del campionato, a 4 punti dalla capolista palestrina, ma con un match da recuperare, quello sospeso sabato nel corso del secondo quarto sul parquet di Cassino per il cedimento di un canistro che ha provocato l'infortunio dell'ex avellino Silver Bryan. La Virtusarechi ha un roster lungo e completo con 5 uomini in doppia cifra di media. Da Diomede a Wisnic, passando per Leggio, Tortù e Potì, i pericoli arriveranno da più fronti per una scandone alla terza partita di una settimana, che così come è accaduto contro Palestrina, proverà a fare lo sgabetto ad una big e a confermare la crescita di un roster che però potrebbe accusare un po' di stanchezza. Anche per questo, in sede di presentazione, coach De Gennaro ha annunciato che potrebbe dare più spazio alla panchina nel caso in cui il match si mettesse male. Anche perché all'orizzonte c'è la sfida contro Ruo di Puglia al Del Mauro, che potrebbe essere leggermente più abbordabile di un derby sentito, ma che non vedrà la presenza di tifosi bianco-verdi costretti a rimanere a casa per il divieto di trasferta arrivato dalla prefettura di Salerno.